Ciao ragazzi e benvenuti in questo video speciale per Natale oggi vi porto a vedere i mercatini di Toronto a Distiller Dix Sansom baby, just slip a savor under the tree for me I've been an awful good girl, Sansom baby, so hurry down the chimney tonight, yeah Sansom baby, a 54 convertible, too light blue, I'll wait up for you too, Sansom baby, so hurry down the chimney tonight Thanks Ragazzi mi sono fatto tentare da questo tornado di patate e l'ho preso in versione barbecue Buonissimo Costa 6 dollari Però non avevo mai visto una roba del genere Poi, come sapete ho sempre fame, quindi sono facilmente corrompibile Poi se vedo ancora delle cose del genere, cioè è finita proprio Poi su dippy la natale di Toronto, sono veramente una figata Approvato in pieno E' veramente buono, ma che mette, almeno penso sia la tassa Barbie, più mette una sete tremenda. C'è una bottiglia d'acqua, faccio ancora un giro per questi mercatini perché volevo comprarmi un cappello canadese, però ho visto uno che mi piaceva ma non ce l'aveva, sono piccoli per bambini, peccato, continuiamo la ricerca. Gli edifici di questa parte di Toronto sono molto belli perché sono in stile di rivoluzione industriale, quindi molto 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 figo. Poi addobbati, stiamo a natalizio, secondo me rendono un'atmosfera davvero davvero magica. C'è un odore di waffle e robe dolci incredibili, che fa venire una fame. Io sono fatto tentare anche dal dolce, ho preso un fin qualcosa, gusto Oreo. Mi piacciono troppo. Ok, dopo questo Kimli Stats, il gusto Oreo che era buono però, essendo grosso nausea un pochino, però era buonissimo. Ehm... Alla prossima. Vediamolo che per quest'anno il regalo di Natale ce lo siamo fatti, ma che freddo. Eccoci qua ragazzi, spero che questo video molto easy vi sia piaciuto e vi invito a spolliciare like a questo video, condividere lo Facebook, iscrivervi al canale, fare tutte quelle cose che di solito si fanno se si segue un canale YouTube. Quindi vedete un po' voi. Nell'occasione vi faccio i miei più cari auguri di Natale e come piccolo regalo a voi che mi seguite vi faccio un piccolo spoiler sui progetti futuri che vedrete sul canale. Allora, si parte da il Capodanno on the road che l'avevo già annunciato, non so, mi ricordo se alle live di Periscope o qualche mini video, non mi ricordo. Comunque l'avevo già detto, quindi ve lo dico anche a voi che magari non lo sapete. Faremo un viaggio in the road con un camper per Capodanno, quindi sarò via quattro giorni, farò anche lì una serie di video che penso il primo episodio lo vedrete già ancora di dicembre. Poi, quindi andrà a sospendere per un attimo la serie Canada. Poi penso che per qualche settimana si alterneranno Canada e camper, viaggio in camper con il Canada. E poi ci sarà una collaborazione con un canale abbastanza importante, che non vi dico ancora niente. E poi, ah ecco, se quelli di voi stanno aspettando i video fighi del Canada, cioè Cascate Nia Gara, Sian Tower, Biodome, tutti quei video lì, vi chiedo scusa, ma dovete attendere perché siccome durante le feste, cioè, io per primo non ho tempo di guardare video, montarli e tutto, li pubblicherò più avanti, quindi penso dopo l'undici, dopo proprio tutte le feste, perché ci tengo veramente tanto, e vorrei che siano visti da tutti voi, quindi vi chiedo veramente scusa, ma li vedrete più in là. Non vi lascerò a bocca asciutta, vi farò uscire dei video molto più easy come questo qua, nell'attesa di tornare alla grande sul canale. Quindi scusatemi ancora, abbiate pazienza, i video fighi arriveranno tranquilli, e per ora godiamoci le feste, festeggiamo alla grande l'arrivo del 2016, che vedrete, vedrà, soprattutto su questo canale, veramente delle... come sto parlando. Sono veramente cotto questi giorni perché sto lavorando un sacco e sto straparlando, mi impoppino sempre e... Comunque dicevo, nel 2016 vedrete delle cose veramente, veramente fighe, ma fighe fighe, quindi stay tuned perché ci sono grandi progetti in mente. Spero di riuscire a realizzarli tutti e... ci vediamo presto con un nuovo video, come sempre. Ciao belli, buon Natale! Spero di riuscire a realizzarli tutti e... Ciao belli, buon Natale!